Ciao a tutti, sono Arturo Gambardella, sono un attore, ho quasi 50 anni e ho partecipato a parecchi film, fiction. Uno importante è stato l'ultimo che ho fatto, Torno indietro e cambio la mia vita, di Vanzina. L'ho interpreto un cameriere, il film è con Raul Bova e con Ricky Memphis. E il mio sogno è prendere parte a un film thriller, un bel thriller di quelli proprio tosti. E la mia città preferita è Roma, perché secondo me è la più bella Armonno. E che altro poi? Questa musica io l'ho messa qua. Boh, non lo so. E comunque ho partecipato anche a 100 vetrine anni fa, ho fatto il cameriere là. Poi ho partecipato a Senza di via d'uscita, Un amore spezzato con Ranieri. La facevo un bel finanziere tosto. Ma proprio tosto. E avvene, che altro? Mi piace molto Piraccioni. Ho visto tutti i suoi film, tutti proprio dal primo all'ultimo. Il più bello per me è il pesce innamorato. No, no, il pesce innamorato, il paradiso all'improvviso. Ecco, me sono ricordato bene. Bene, io me ne vado, ve saluto. E andiamo a mangiare. Una bella spaghettata di... Una bella matriciana. Ciao a tutti. Ciao.